Ed eccoci qui alla fine della serata. Cosa avete imparato? Ma, ho un sacco di roba. Tantissime cose, tantissime cose sulle cellule, sugli organoidi, sui cervelli, cose che mi serviranno nella vita, credo. Boh, non lo so. Io ho imparato soprattutto che, diciamo, gli organoidi, come la mortadella, vanno tagliato fino. La cosa importante è quello, se un domani ve ne trovate un pezzo a casa, tagliatelo fino, perché viene più buono. Perché il Molise post-nucleare fa molta paura. Molta. Sì, molta paura. Queste sono tutte cose che abbiamo imparato stasera. Grazie ai bugiardini. Grazie a voi.